cari italianglottini e care italianglottine ben ritrovati per un nuovo episodio del podcast di italianglot il podcast che vi aiuta a migliorare il vostro italiano e allo stesso tempo a conoscere un po meglio l'italia a tale proposito oggi ho deciso di aggiornarvi su quello che sta succedendo nella società italiana da quando si è insediato nell'ottobre del 2022 il nuovo governo di estrema destra e nello specifico vedremo come questo governo sta cercando di censurare zittire allontanare tutti quelli che nella tv pubblica hanno opinioni diverse o completamente opposte alle sue sarà anche un'occasione per farvi conoscere personalità e trasmissioni tv storiche che ormai fanno parte della cultura italiana per avere un quadro completo e associare un volto a ognuno dei nomi che sentirete vi lascerò una serie di video e articoli nelle note dell'episodio su italianglot.com e sulla stessa pagina troverete anche due piccoli pulsanti uno per scaricare la trascrizione dell'episodio di oggi con al lato del testo una lista di parole chiave tradotte in inglese e spiegate in italiano e uno per scaricare il foglio di lavoro con tanti esercizi di comprensione vocabolario e grammatica come sapete l'azienda che si occupa di fornire ai cittadini italiani il servizio pubblico di radiofonia e televisione è la RAI la radiotelevisione italiana spa si tratta dunque di una società per azioni che è controllata per il 99,56 per cento dal ministero dell'economia e delle finanze e per lo 0,44 per cento dalla società italiana degli autori ed editori meglio conosciuta come siae in teoria il giornalismo e le informazioni che vengono date al pubblico ogni giorno dovrebbero essere libere indipendenti quanto più possibile accurate e corrispondenti al vero ma nella pratica non è sempre così i sette membri del suo consiglio di amministrazione quindi dei vertici dell'azienda che hanno il potere di manovrare l'informazione se vogliono vengono infatti scelti in questo modo quattro vengono eletti dal parlamento due dal consiglio dei ministri quindi dal governo e solo uno dai dipendenti della RAI c'è poi la cosiddetta commissione di vigilanza RAI che ha il compito appunto di vigilare sorvegliare le trasmissioni televisive perché rispettino i principi del servizio pubblico questa commissione però è composta da 20 deputati e 20 senatori qual è la conseguenza di tutto questo che l'informazione in RAI non è mai veramente libera al 100% perché è controllata dai partiti e dal governo a ogni cambio di governo che sia di sinistra di centro o di destra si mettono ai vertici dell'azienda persone raccomandate dai politici il problema sorge quando queste persone cominciano a imporre determinati contenuti alle trasmissioni televisive soprattutto quelle di informazione a mandare via giornalisti e presentatori che considerano scomodi e a distruggere il pluralismo dell'informazione cercando di far passare un solo tipo di messaggio quello del governo in carica ed è proprio quello che sta succedendo con il governo attuale in carica dal 2022 il cui capo è Giorgia Meloni Giorgia Meloni è la leader del partito di estrema destra e sta dando un'impronta sempre più autoritaria al suo governo cercando però in modo subdolo di farlo passare per un governo democratico la Meloni da quando è diventata presidente del consiglio ha infatti magicamente assunto un atteggiamento più moderato o perlomeno sta cercando di dare questa immagine di sé soprattutto in Europa di fronte ai leader degli altri paesi anche se alcuni esponenti dei partiti che fanno parte del suo governo non nascondono di ammirare Mussolini e hanno fatto una serie di dichiarazioni apertamente fasciste la Meloni e tanti altri hanno preso le distanze dal fascismo storico quello di Mussolini appunto quando è diventata capo del governo nel suo discorso in parlamento ha detto di non aver mai provato simpatia o vicinanza nei confronti dei regimi antidemocratici per nessun regime fascismo compreso queste sono le sue parole i fatti sono altri una democrazia si fonda sulla libertà anche e soprattutto libertà di espressione e sull'uguaglianza di tutti i cittadini senza discriminazioni di alcun tipo ma il governo Meloni è xenofobo razzista omofobo e ultimamente anche autoritario è facile lodare la democrazia quando l'unico momento democratico è quello delle elezioni e poi una volta al potere si zittisce il popolo non dandogli più la possibilità di esprimersi criticare o dissentire sì perché è questo che sta succedendo negli ultimi mesi in Italia nel primo episodio del podcast di quest'anno il numero 113 come sono gli italiani nel 2023 vi ho raccontato di fabio fazio nel maggio del 2023 dopo quasi 40 anni di carriera nella tv di stato e dopo aver condotto ben 20 edizioni del suo programma che tempo che fa fazio ha annunciato che sarebbe andato via dalla rai per passare al 9 un canale del gruppo warner brothers discovery quando è andato via ha detto non posso che avere gratitudine nei confronti della rai la rai ha passato con me 40 dei suoi 70 anni siamo in parte la stessa cosa e anche detto di essere un uomo non adatto a tutte le stagioni con questo messaggio ha voluto dire che ama la rai ma che la rai non è più la stessa da quando è iniziata questa nuova stagione ovvero la nuova era del governo meloni la destra infatti non ha mai sopportato fazio che considerava troppo progressista liberale troppo ben disposto verso gli immigrati troppo aperto ai temi del femminismo dei diritti della comunità lgbt dell'ecologia e del cambiamento climatico insomma un uomo troppo a sinistra per i loro gusti uno dei ministri più estremisti e conservatori del governo meloni matteo salvini parlando di fazio ha detto mi sta sulle palle era dunque ovvio che lo scomodo presentatore sarebbe stato tra i primi a sparire dalla rai e insieme a lui è andata via anche la comica luciana litizzetto che lo ha sempre accompagnato in ogni puntata di che tempo che fa con dei monologhi divertenti di circa 25 30 minuti in cui non mancava anche la satira politica troppo sfacciata per alcuni membri del governo per fortuna tutto questo continua ora sul canale 9 per cui non solo il governo non è riuscito a tappare loro la bocca ma la trasmissione continua a fare ascolti record con milioni e milioni di telespettatori ogni domenica sera il problema è che in questo modo la rai e il servizio pubblico stanno perdendo milioni di euro che tempo che fa dal 2003 è sempre stata una trasmissione di successo un talk show su temi che spaziano dalla politica allo spettacolo con ospiti anche di fama internazionale come barack obama bill gates e madonna spesso non sono mancate le polemiche sui soldi che guadagnava fazio la destra usa spesso questa argomentazione per attaccare e screditare i suoi nemici per cercare di convincere la gente che questi professionisti fanno quello che fanno solo per soldi in realtà grazie a fazio e al suo programma la rai aveva dei guadagni altissimi perché con una media di due milioni e mezzo di spettatori appuntata che oggi guardano invece il 9 grazie agli sponsor e alle pubblicità in una sera entrava circa un milione di euro nelle casse della rai uno degli ospiti quasi fissi delle precedenti edizioni di che tempo che fa era roberto saviano sicuramente lo conoscete perché è impegnato da anni come giornalista d'inchiesta e come scrittore nella lotta alla mafia e alla criminalità organizzata in generale il suo libro più famoso è gomorra da cui è stata tratta anche l'omonima serie televisiva in seguito alla pubblicazione di gomorra saviano ha cominciato a ricevere minacce di morte telefonate anonime tanto che gli è stata assegnata una scorta per motivi di sicurezza ad ogni modo fazio dava voce a saviano nella sua trasmissione e lo scrittore rivelava al pubblico fatti e vicende che spesso noi gente comune non conosciamo non solo riguardo alla malavita ma anche riguardo a politici e altri personaggi potenti capirete perciò perché anche saviano è odiato dal governo attuale la meloni durante i suoi comizi in piazza non ha mai perso occasione per aggredirlo verbalmente e screditare il suo lavoro da giornalista e scrittore indovinate cosa ha detto spesso di lui saviano fa quello che fa per arricchirsi per soldi nel febbraio e nel marzo 2022 quindi molto prima dell'insediamento del nuovo governo di destra saviano aveva condotto un programma in prima serata su rai 3 che si chiamava insider faccia a faccia con il crimine era un programma in quattro puntate che raccontava per mezzo di reportage e interviste il mondo della criminalità organizzata nel novembre 2023 doveva andare in onda la seconda stagione e saviano aveva già registrato quattro nuove puntate erano stati investiti soldi e tempo nel progetto beh tutto lavoro sprecato perché nell'agosto 2023 a saviano è stato comunicato che il programma era stato cancellato per volere della rai in un video che troverete nelle note dell'episodio e che vi consiglio di guardare roberto saviano svela che la decisione è stata presa dal governo attuale tra le altre cose anche perché in questi nuovi episodi alcuni collaboratori di giustizia che lui aveva intervistato avevano svelato i rapporti tra criminalità organizzata e politica il pretesto per bloccare la trasmissione era stato di tipo etico saviano aveva definito matteo salvini che abbiamo già nominato prima ministro della malavita e quindi non può condurre una trasmissione peccato che questa affermazione risalga a molto tempo fa saviano è già da cinque anni a processo per aver definito salvini in quel modo e tra l'altro se fosse stato davvero questo il motivo non sarebbe dovuto andare in onda nemmeno insider 1 che invece è stato regolarmente trasmesso quando c'era un altro governo si tratta chiaramente di un pretesto e allo stesso tempo anche di un avvertimento ad altri giornalisti e scrittori se non volete fare la fine di saviano state zitti e non osate sfidare il potere sì perché questi potenti hanno paura solo di una cosa di perderlo il potere cosa succederebbe se venissero alla luce verità che li mettono in relazione con il crimine perderebbero consenso voti e verrebbe meno la menzogna con cui hanno convinto i propri elettori a votarli e cioè che i veri criminali quelli che minacciano il nostro paese sono gli immigrati insomma insider 2 viene cancellato e ancora una volta la rai perde un sacco di soldi per di più è anche stata impedita a saviano la partecipazione a qualunque trasmissione della rai per presentare il suo nuovo libro noi due ci apparteniamo sesso amore violenza tradimento nella vita dei boss un altro conduttore storico che ha lasciato la rai nell'aprile del 2024 è stato amadeus che è il nome d'arte di amedeo umberto rita sebastiani non so se ne avete sentito parlare ma negli ultimi anni è stata una figura quasi onnipresente in tv perché oltre ad aver condotto vari programmi di intrattenimento e quiz come affari tuoi soliti ignoti e reazione a catena è stato anche dal 2020 al 2024 direttore artistico e presentatore del famoso festival di sanremo tra l'altro con grande successo pensate che la serata finale della settantaquattresima edizione quella del febbraio 2024 ha ottenuto il 74,1 per cento di share con 14 milioni e 301 mila spettatori segno che amadeus ha fatto un ottimo lavoro nonostante questo anche lui ha deciso di lasciare la rai e passare al 9 dalle sue affermazioni è risultato chiaro il suo desiderio di avere maggiore libertà e di sottrarsi alle pressioni dei dirigenti della tv di stato dovete sapere cari italianglottini e care italianglottine che durante l'ultimo festival di sanremo ci sono state tantissime polemiche per via delle pressioni provenienti dai piani alti della rai su conduttori e cantanti gali uno dei cantanti dopo la sua esibizione ha detto stop al genocidio chiaramente riferendosi al conflitto tra il governo di israele e hamas ha in pratica espresso una sua opinione e il suo desiderio di mettere fine alla guerra il giorno dopo durante lo speciale sanremo condotto da mara venier nella sua trasmissione domenica in la presentatrice è stata costretta a leggere un comunicato dell'amministratore delegato della rai roberto sergio in cui si dissociava da quello che aveva detto gali esprimendo la sua solidarietà al popolo di israele e alla comunità ebraica oltre al fatto che il messaggio di gali non era rivolto né al popolo di israele né alla comunità ebraica ma al massimo al governo di netagnau che sta facendo migliaia e migliaia di vittime tra la popolazione palestinese potete facilmente intuire come il governo meloni abbia fatto pressione sull'amministratore delegato della rai per correggere una visione quella di gali che non era in linea con la sua dopo questo episodio sono iniziate una serie di manifestazioni pacifiche in varie città soprattutto da parte di studenti per esprimere dissenso rispetto a quello che era successo a sanremo e per chiedere la pace a gaza il 13 febbraio ce n'è stata una davanti agli studi della rai di napoli e i manifestanti sono stati picchiati a sangue dalla polizia intenuta antisommossa stessa cosa poi è successa durante altre manifestazioni a roma firenze pisa e catania dove pure la polizia ha usato i manganelli per fermare i manifestanti provocando così decine di feriti se ne è parlato molto in quei giorni perché soprattutto a pisa nei video girati con i cellulari si vedono ragazzini minorenni disarmati avvolto scoperto con un semplice zainetto sulle spalle che vengono picchiati con una forza brutale e decisamente sproporzionata dalla polizia genitori e comuni cittadini si sono indignati per questa repressione feroce e se la sono presa con il governo dopo gli episodi di pisa è infatti intervenuto perfino il presidente della repubblica sergio mattarella che ha convocato il ministro dell'interno matteo piantedosi e gli ha detto l'autorevolezza delle forze dell'ordine non si misura sui manganelli ma sulla capacità di assicurare sicurezza tutelando al contempo la libertà di manifestare pubblicamente opinioni con i ragazzi i manganelli esprimono un fallimento ritornando a sanremo anche il cantante d'argent amico ha fatto un appello pacifista sul palco del teatro ariston e ha detto nel mar mediterraneo in questo momento ci sono bambini sotto le bombe senza acqua senza cibo e in questo momento il nostro silenzio è corresponsabilità la storia dio non accettano la scena muta c'è stato il già il giorno dopo però darjen ha fatto marcia indietro dicendo che il suo messaggio pacifista non voleva essere un messaggio politico insomma risulta chiaro come ci sia il terrore di parlare in rai di esprimere le proprie opinioni per non far arrabbiare i nostri governanti c'è ancora un altro episodio di censura che ha fatto molto scalpore ed è quello dello scrittore giornalista antonio scurati esperto di fascismo che era stato invitato alla trasmissione di rai 3 che sarà condotta da serena bortone per presentare un suo monologo in occasione del 25 aprile la festa nazionale dedicata alla liberazione dell'italia dal nazifascismo festa molto odiata tra l'altro dalla destra chissà perché ad ogni modo improvvisamente viene comunicato a serena bortone che il monologo di scurati è stato annullato la scusa è che scurati aveva chiesto un compenso economico troppo alto per un intervento di pochi minuti e la rai non aveva accettato la sua richiesta bortone allora telefona scurati che nega che sia stato questo il motivo e anzi per provarlo le invia gratuitamente il testo del suo monologo e le dà l'autorizzazione di leggerlo in tv serena bortone per esprimere il suo dissenso per il comportamento inqualificabile della rai e del governo e senza preoccuparsi delle conseguenze lo legge integralmente se volete ascoltarlo ancora una volta vi lascerò il video nelle note dell'episodio nel suo monologo scurati raccontava di come l'onorevole giacomo matteotti politico antifascista che si opponeva apertamente alla dittatura fu assassinato brutalmente il 10 giugno 1924 da cinque fascisti assoldati dai più stretti collaboratori di benito mussolini raccontava pure di altre stragi compiute poi negli anni dai fascisti a danno di tante persone innocenti tra cui anche centinaia di bambini e neonati insomma scurati nel suo discorso pone l'accento sul fatto che il fascismo è stato un movimento criminale e che la nuova presidente del consiglio anche se ha preso le distanze da questi episodi sconvolgenti non lo ha mai ripudiato fino in fondo e soprattutto si è sempre rifiutata di pronunciare la parola antifascismo alla fine del monologo scurati dice finché quella parola antifascismo non sarà pronunciata da chi ci governa lo spettro del fascismo continuerà a infestare la casa della democrazia italiana dopo serena bortone questo testo è stato letto anche in altre trasmissioni televisive di alcune reti private è stato condiviso su tutti i social insomma ha avuto un eco molto più grande che se fosse passato semplicemente in televisione come programmato senza censura una censura che alla fine si è ritorta contro lo stesso governo e udite udite la stessa giorgia meloni si è sentita costretta a pubblicarlo sul suo profilo facebook solo per cercare di dimostrare quando ormai era troppo tardi che non c'era stata alcuna intenzione di censura ma che semplicemente si era trattato di una questione economica scurati aveva chiesto troppi soldi come per fazio e saviano anche per scurati il metodo è sempre lo stesso demolire la sua professionalità e la sua credibilità facendolo passare per un uomo affamato solo di soldi lo scrittore allora ha risposto a questa accusa così offensiva della meloni dicendo che la questione del compenso economico era completamente falsa e che questa era solo un'ennesima aggressione diffamatoria nei suoi confronti ed è così perché sembra che il contratto prevedesse un compenso di 1800 euro mentre altri scrittori e personaggi dello spettacolo chiedono compensi dai 3000 fino ai 20.000 euro per una semplice apparizione in tv strano che improvvisamente la rai considerasse 1800 euro una cifra troppo alta scurati scrive alla meloni pur di riuscire a confondere le acque e a nascondere la vera questione sollevata dal mio testo un capo di governo usando tutto il suo straripante potere non esita ad attaccare personalmente e duramente con dichiarazioni denigratorie un privato cittadino e scrittore suo connazionale questa gentile presidente è una violenza non fisica certo ma pur sempre una violenza e questo il prezzo che si deve pagare oggi nella sua Italia per aver espresso il proprio pensiero voglio chiudere l'episodio di oggi con un'ultima mossa del governo meloni per chiudere la bocca a critiche e dissenso nel 2000 sono state introdotte in Italia una serie di regole conosciute come par condicio per cui durante una campagna elettorale i canali televisivi e radiofonici sia della rai che delle aziende private devono garantire la pluralità dell'informazione dando lo stesso spazio a tutte le forze politiche tutti i partiti cioè devono poter parlare in tv e alla radio e a ognuno deve essere garantita la stessa quantità di tempo e la possibilità di rispondere alle affermazioni degli avversari il 9 aprile in previsione della campagna elettorale per le elezioni europee del giugno 2024 sono state modificate queste regole per consentire ai rappresentanti del governo meloni di parlare nei talk show senza vincoli di tempo e soprattutto senza contraddittorio i giornalisti della rai si sono subito mobilitati per protestare durante i vari telegiornali è stato letto questo comunicato la maggioranza di governo ha deciso di trasformare la rai nel proprio megafono questa non è la nostra idea di servizio pubblico dove al centro c'è il lavoro delle giornaliste dei giornalisti che fanno domande anche scomode verificano quanto detto fanno notare incongruenze per questo gentili telespettatori vi informiamo che siamo pronti a mobilitarci per garantire a voi un'informazione indipendente equilibrata e plurale e ci fermiamo qui per oggi anche se ci sarebbe ancora tanto da dire su questo argomento la lista delle persone che sono state costrette o che si sono sentite costrette a lasciare la rai e delle persone alle quali sono state tolte le proprie trasmissioni televisive e radiofoniche non è finita con fabio fazio luciana litizzetto roberto saviano e amadeus né con l'episodio di antonio scurati ma ci sono anche altri nomi storici e importanti della tv come quello di flavio insinna corrado augas bianca berlinguer lucia annunziata massimo gramellini e chissà quanti altri ce ne saranno in futuro e da voi cari italianglottini e care italianglottine com'è la situazione anche nel vostro paese c'è un governo che controlla o vuole controllare l'informazione anche da voi vengono manganellati per strada dei manifestanti pacifici fatemelo sapere con un commento su youtube facebook instagram o spotify o anche mandandomi un email a italian glott chiocciolagmail.com vi aspetto al prossimo episodio e nel frattempo viva l'antifascismo ciao ricordate che diventando membri di italianglott su italianglott.com potrete scaricare le trascrizioni e gli esercizi di tutti gli episodi dei miei podcast fogli di lavoro con attività di vocabolario grammatica comprensione orale e scritta e avrete l'accesso a tutti i miei corsi interattivi dal livello a1 al livello b1 e se vi è piaciuto questo video non dimenticate di mettere un like e di iscrivervi al canale cliccando sulla campanella per ricevere notifiche ogni volta che pubblico un nuovo video ciao